guys ben ritrovati in questo nuovo video incredibile ragazzi come ogni anno sono qui per mostrarvi la mia squadra del fantacalcio ci ho messo un bel po di tempo perché fino a giovedì avevamo la possibilità di fare qualche cambio tra noi mi raccomando seguitemi su instagram e so che molti di voi hanno già fatto il fantacalcio già all'asta del fantacalcio quindi vi invito a seguirmi su instagram e a farmi vedere nelle vostre storie taggandomi la vostra rosa in modo tale da potervi dare un giudizio perché se mi scrivete in direct ragazzi divento scemo mentre se mi taggate su instagram riesco a recuperarle uno per volta ragazzi vi spiego un attimino come è andata la mia asta di fantacalcio pensavo peggio pensavo peggio sono più soddisfatto degli altri anni non sono mai stato così soddisfatto in vita mia ed ero molto preoccupato devo dire la verità perché quest'anno abbiamo fatto un fantacalcio in 10 solitamente lo faccio in 8 300 fantamilioni disponibili ciascuno e abbiamo utilizzato l'app di fantagazzetta fantasta in cosa consiste fantasta l'ho già accennato negli scorsi video è praticamente un'asta random cioè non è a chiamata non è in ordine alfabetico è un'applicazione e tu una volta inserita la lista completa dei giocatori ti chiama random qualsiasi tipo di giocatore nemmeno in ordine di ruolo così a casaccio calcolate che il primo nome che è uscito è zapata per dirvene una quindi è molto molto teso molto teso come come fantacalcio fatto in questo modo però devo dire che è anche simpatico è durato tipo 5 6 ore però va bene e quindi se è un'arma a doppio taglio dobbiamo dire questa cosa qui perché hai la possibilità di farti una squadra incredibile come una squadra di merda perché se tu finisci tipo i difensori già dall'inizio quando ancora mancano un sacco un sacco un sacco di difensori tu lì non puoi più partecipare all'asta quindi gli altri hanno la possibilità e hanno una persona in meno con cui fare l'asta quindi c'è la possibilità magari che immobile uscendo per ultimo riesce a prendertelo a 50 invece che a 100 non è stato il caso però direi di iniziare subito ragazzi con la mia squadra che incredibilmente ragazzi si chiama spiazzenza spiazzenza calcio ragazzi è un nome che ho trovato su internet tra l'altro ho fottuto anche il logo perché è bellissimo c'è la faccia di inzaghi con scritto spiacenza in realtà era il nome originale io l'ho chiamato spiazzenza va bene come vedete ci sono già i portieri in bella vista sono riuscito a prendere musso silvestri e scorubschi se non erro musso e silvestri sono ottimi per quanto riguarda la griglia portieri quindi in casa fuori cassa si trovano sempre la grandissima infatti la prima giornata giocherò sicuramente con musso perché gioca in casa contro l'uoto dello spezia una una porta tutto sommato decente ragazzi non così fenomenale noi abbiamo il bonus portiere che difficilmente prenderò con questi portieri tipo l'anno scorso musso è stato quello con più clean sheet se non erro in tutto il campionato però non ho mai speso tantissimo ragazzi per i portieri io in tutti i miei fantacalci non ho mai preso portieri di juve inter milan napoli roma roma non conviene mai però ho sempre utilizzato questa tattica qui quindi questo è il mio pacchetto di portieri che tutto sommato è decente ricordiamo fantacalcio in dieci primo difensore primi due sono usciti danilo e biraghi danilo l'ho preso a uno io ho approfittato del fatto che comunque del ict fosse ancora infortunato quindi danilo ho visto che contro il novara in amichevole ha giocato praticamente centrale un po sprecato però diciamo che fa male sia il terzino che il centrale danilo quindi l'ho preso giusto per perché era uno ed è della juventus e quando gioca può far bene biraghi invece io ve l'avevo anche consigliato perché perché biraghi prima di andare all'inter quindi nell'ultima praticamente stagione alla fiorentina aveva fatto una gran stagione ma è stato uno dei dei terzini e dei dei difensori con più bonus quell'anno giocando sempre no se non sbaglio giocava terzino lì addirittura quest'anno prendendo lo difensore gioca in un centrocampo a 5 quindi secondo me è perfetto è assolutamente perfetto quindi andiamo avanti poi sono riuscito a prendere i banes a 1 non ci ha puttato nessuno non capisco per quale motivo da solo non aveva senso prenderlo infatti ho preso anche chier pensavo ci fosse già che figura di merda vabbè ho preso chier a 1 era uno degli ultimi mancavano due difensori sono riuscito a prenderli a 1 comunque per il momento è un titolare salvo milenkovic eccetera poi noi all'asta di riparazione che è praticamente il 5 ottobre finisce il calciomercato facciamo l'asta di riparazione qualcuno che non giocherà lo venderò sicuramente ho preso Kolarov io Kolarov l'ho preso tre anni consecutivi non di certo perché è andato all'inter dovevo esimermi dal prenderlo secondo me giocherà comunque parecchio perché molto spesso giocherà centrale nel senso difensore centrale sinistro e non esterno a tutta fascia perché con Conte morirebbe però ragazzi è un calcio piazzato può capitare anche un calcio di rigore eccetera eccetera è comunque un buon compromesso poi ho preso Kumbulla non mi dite le parole perché Kumbulla l'ho preso quando non era ancora ufficiale alla Roma l'ho preso a 2 ho detto ma siccome 30 milioni sono tanti secondo me alla fine rimane al Verona non se lo pida nessuno tac è andato alla Roma perfetto voi direte vabbè Kumbulla e Bainez è buono e no perché io poi ho preso anche Mancini ho detto ma prendiamo Mancini e i Bainez perché dovesse tornare Smalling non lo so magari giocano tutti e tre però è arrivato adesso Kumbulla quindi io devo decidere tra i Bainez Kumbulla e Mancini quale vendere perché tutti e tre è inutile tenermeli nella maniera più assoluta potrei anche tenermeli però non amo avere i doppi giocatori di ogni squadra per in difesa in centrocampo in attacco ancora ancora però non amo ragazzi non amo ultimo penso difensore Tomiyasu è stato un po' la rivelazione dello scorso anno se non era fatto un gol solo e che gol contro contro il Milan però sufficienza la sufficienza l'ha quasi sempre presa Tomiyasu volevo volevo puntarci assolutamente mi sta anche simpatico passiamo al centrocampo i primi due così Arthur e Bonaventura allora date un voto per ogni reparto ragazzi perché porta e difesa non mi piacciono tantissimo devo esservi sincero però io in difesa non prendo mai giocatori non spendo mai tantissimo solitamente prendo un top e il resto prendo i titolari l'anno scorso sono venuto a prendere Teo Hernandez quest'anno sono andati tutti tutti a un fottio di soldi i vari Achimite o Hernandez poi siccome avevo l'ansia di spendere ho deciso di spendere pochi ho speso pochissimo in difesa e comunque i giocatori che giocano i titolari ce li ho per il momento Arthur Bonaventura Arthur a me piace tantissimo bisogna vederlo nel contesto Juve Bonaventura era un mio pallino che vi ho anche consigliato della Fiorentina secondo me Bonaventura può fare veramente veramente bene infortuni permettendo io l'anno scorso l'ho preso al Milan a 1 all'inizio poi si è infortunato l'ho venduto e tornato e ha cominciato a segnare a me succede sempre così calcolate che l'anno scorso io quanti ve ne ho consigliati 10 io quei 10 me li sono presi però si sono un po' sbloccati dopo tipo io avevo all'inizio Rebic e Bogà che all'inizio non giocavano mai li ho venduti fenomeni avrei vinto il fantacalcio l'anno scorso andiamo avanti Ericsson calcolate che Ericsson l'ho scambiato giovedì perché avevo McKenzie si chiama McKenzie McDonald non lo so che avevo preso a poco cioè a 7 perché avevo preso Arthur ho detto ma se non gioca uno gioca l'altro poi vi faccio vedere alla fine lo scambio che ho architettato per prendere Ericsson Ericsson è un'incognita ragazzi io non mi capacito che un giocatore come Ericsson debba fare panchina non esiste nella maniera più assoluta io ho detto ma ho visto l'amichevole con Lugano ha giocato col trequartista Conte sensi nel primo tempo Ericsson nel secondo chissà che quest'anno Conte non si decida a farlo giocare Ericsson Malinowski Malinowski l'ho pagato 19 e l'anno scorso me l'hanno me l'hanno fottuto e ve lo avevo consigliato ragazzi questa è una delle tante scommesse vinte l'anno scorso insieme a Bogama Ancoso eccetera eccetera però quest'anno ho detto no deve essere mio perché in attacco voglio prendere un altro dall'Atalanta che se si riprende faccio il colpaccio poi vi faccio vedere chi è però Malinowski 19 secondo me quest'anno fa il devasto fa il devasto andiamo avanti Nandez Nandez l'ho preso in coppia con vediamo se mi esce insieme ecco vabbè vi ho già spoilerato gli altri vabbè Nandez l'ho preso in coppia con Pereiro perché? Perché nell'amichevole contro la Roma Nandez ha occupato il posto di Pereiro in attacco perché è ancora infortunato ha giocato praticamente ala io ora non so se Pereiro giocherà trequartista esterno perché Di Francesco ogni tanto cambia modulo cioè cambia ruolo i giocatori non si capisce più una sega quindi li ho presi tutti e due comunque Nandez è un ottimo è un ottimo giocatore ragazzi fa anche bonus qualche volta ottimi voti ha il cartellino facile però Pereiro è una delle mie scommesse quest'anno l'altro l'avete già visto Veretout e Rigorio ha pagato 23 però ragazzi rigorista mancava solo lui dalla Roma mi prendevo o lui o Pellegrini per dirvi però ho preferito Veretout con il fatto che è rigorista ora vedremo se con Milik non imbatterà più i rigori altrimenti me lo sono preso in qual posto andiamo avanti questo è l'ultimo sì è l'ultimo centrocampista puntato Zaccagni mi mancava un centrocampista e appunto un centrocampista che gioca un po' più avanzato gioca insieme a Lazovic sulla fascia o stretto trequartista è una mia scommessa sinceramente io avevo dei dubbi sul mio centrocampo inizialmente però riguardandolo adesso non mi fa così schifo ragazzi anzi ho anche troppe 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 possibilità e avrei fatica farei fatica a scegliere quattro a scegliere quattro perché gioco sempre col 3-4-3 diciamo che Arthur Buonaventura Malinowski Veretout di regola dovrebbe essere però Arthur bisogna capire se un giocatore che gioca un po' più avanti mi fa bonus non mi fa bonus è un casino lo vedremo solo vivendo lo scopriremo solo vivendo primo attaccante Mimmo Berardi io odio Berardi cioè capiamoci non mi piace come giocatore però io devo pensare al fantacalcio e fantacalcisticamente parlando è rigorista l'anno scorso ha fatto 14 gol in campionato ed è il capitano del Sassuolo se non c'è Magnanelli quindi ho messo da parte il mio odio verso Berardi calciatore ho detto no quest'anno lo devo prendere poi a 26 ragazzi era assolutamente un compaccio andiamo avanti Geko ho preso Geko se sapevo del suo passaggio alla Juventus ci sarei andato comunque magari non così tanto avrei puntato qualcun altro sinceramente perché a Roma è lui il perno alla Juventus e Ronaldo però va la Juve non è che mi va così male ragazzi assolutamente calcolate che stavo per prendere Milik Milik a noi è andato a via a 2 milioni 2 fantamilioni quando ancora non si sapeva se Milik Roma Geko Juventus ecco perché io ero convinto io ero ancora convinto lo sapete che Geko rimanesse alla Roma ecco perché poi a Milik non ci sono andato perché o prendevo Milik o prendevo l'ultimo che vedrete e alla fine l'ho lasciato a 2 perché avevo puntato 1 e poi me l'hanno preso altrimenti avrei fatto Geko Mili che avrei rotto i culi a tutti quanti Galabinov Galabinov rientra insieme a questo famoso scambio che ho fatto con Eriksen avevo Pinamonti e McKenzie e ho preso Galabinov e Eriksen perché? perché Pinamonti fosse rimasto al Genoa me lo sarei tenuto tutta la vita perché sapete ve l'ho anche consigliato eccetera eccetera però sembra quasi fatta all'Inter è quello che si è preso Pinamonti a Lautaro quindi dovrebbe essere un po' il sostituto di Lautaro o di Lukaku alla fine è un cambio che non sposta così tanto gli equilibri se mi va bene con Eriksen ho fatto il colpaccio alla fine Galabinov non lo metterò mai perché ne ho 5 titolari anche Galabinov è titolare però non lo metterò mai andiamo avanti Gervinio Gervinio l'ho preso a 14 giocatore umile al Parma chi può segnare ragazzi? Kuczka su rigore Bruno Alves se si inventa la punizione Inglesio Cornelius o Gervinio quelli sono non può segnare nessun altro l'anno scorso ne ha fatti 7 in campionato è comunque un buon sostituto se voglio ruotare Berardi eccetera eccetera andiamo avanti Ilicic eccolo qui il discorso che vi facevo con Malinoski alla fine o gioca Ilicic o gioca Malinoski certe volte si cambia con Gomez Malinoski però Ilicic l'ho preso a pochissimo se Ilicic dovesse riprendersi e speriamo che si riprenda anche per lui ho fatto ragazzi Dzeko Ilicic e l'altro che c'è sotto ho fatto un attacco incredibile secondo me in 10 con Berardi e Gervinio secondo me un attacco incredibile ragazzi Rebic o prendevo Milic a pochissimo o prendevo Rebic che l'ho pagato 45 perché era uno degli ultimi che è uscito quindi l'ho dovuto pagare parecchio comunque Rebic Ilicic Dzeko ragazzi non so voi in 10 con Berardi e Gervinio se è un attacco brutto o buono ditemelo voi qui sotto nei commenti ragazzi date un voto per ogni reparto il voto finale alla squadra mi raccomando ci tengo a sapere la vostra opinione mi raccomando seguitemi su Instagram taggatemi nelle vostre storie con la vostra squadra completa buon fantacalcio a tutti ragazzi io già ho l'ansia ho perso arriverò ultimo sicuramente ciao aglio grazie a tutti